signore e signori buongiorno virgola seduti oh benissimo siamo stati convocati qui dalla radio televisione italiana per cominciare questa nuova serie televisiva che si chiama che si chiama dance mania è il suo complesso dunque a questo punto mi sembra logico proprio logico cominciare con le votazioni per nominare il presidente chi deve essere presidente oh bellissimo a meno che grazie 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 che vi avete nominato fondamentalmente presidente a me con le banche a questo punto io cominciarei con qualche proposta da parte vostra per vedere che tipo di progetti io vorrei fargli delle donne le donne no ma se ti vedo più come disgiocchi dichiot tratore incorporare così cos'è io mi affrator veo il canto il canto il canale a lei davvero più come segretario segretario appremos segre a segurieri e segretari ma se lsta ad ärivatives a lei la red deutsche ure direttore di quale campagna perché lei la vedo più come segretario segretario appello segretarie a proprio segre a segretarie ma se l felicità di sù e io voglio fare direttore direttore di quella campagna perché a lei la vomitano più umоже comune tra pat �iel io mi occuperò di poste benissimo allora ti vedo più come cultura come coltore insieme a lui io scrivo la sceneggiatura e lei ha avuto più come te quello che ti dico di jolly proprio jolly ho avuto proprio precisi come jolly io entrate e uscite più verso l'uscita uscire capito dal tempo uscite entrate uscite uscire io della scenografia la scenografia perché ci compriamo una macchina fotografica voi andate a sua vestite andate a cambiare andate a cambiare allora arrivati a questo punto come inizio proprio ragazzi poche idee ma confuse ma avete presente questa trasmissione come si chiama? dance mania quindi bisogna ballare vi farò ballare a tutti cominciamo a riscaldare i muscoli si elastici atletici ed è tretici uuh sì sì e dobbiamo cominciare questa cosa e come com'è 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 com'è